Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Prudenza per nebbia banchi sul tratto appenninico della 1. In FIPILI segnaliamo la presenza di veicoli fermi o in avaria tra Firenze vedotte all'Indiano e Firenze Scandicci verso Livorno e in uscita a Impoli, provenendo da Firenze. Per le statali sulla statale 12, l'abitone del Brennero, senso unico alternato per Frana, tra Popiglio e la Lima, al chilometro 68 e 9. Ultiamo pagina per il traffico ferroviario e informiamo che le biglietterie di Campiglia e Orbetello oggi e domani sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!